signora un caffè signora un caffè no siamo qui con l'intenso signori fiera della casa 2006 sulla mostro mario stand fa la ricetta come ritiene di francesca francesca come me che fa un buon caffè e di francesco a fiera raga come stai so benissimo alla grande sei contenta di essere qui alla fiera della casa certo perché ha visto a lui quanti caffè si è preso fino adesso è preso 3 fino adesso mi paghi 3 caffè tutti intensi tutti intensi allora io ti voglio fare una domanda una sola ti voglio domandare ma il caffè intenso perché è intenso è intenso perché è compatto nell'aroma nel gusto è cremoso è buonissimo e da provare eccolo l'ho provato sette volte un altro caffè è finita cosa volevo dirti ma i clienti cosa possono fare se vengono qui al vostro stand assaggiarlo degustarlo prima cosa e poi comprarlo per contare quello che ha fatto lui devono fare i clienti al contrario molto facile quindi non solo assaggiarlo no soprattutto comprarlo anche perché i prezzi lo regaliamo proprio quando mi costano le cialde qui ma un caffè ne costa 10 centesimi che bello sta 10 centesimi e la macchinetta e la macchinetta 100 mi ciao benvenuta come stai tutto bene tutto allora parlaci un pochettino del caffè intenso il caffè intenso è una prelibatezza tutta napoletana un'ottima torrefazione abbiamo miscere di tutti i gusti dall'arabica 100 per cento al forte classico decaffe nato abbiamo l'intenso fair trade quindi biologico è una garanzia ma dove siete voi dell'intenso sapete una sì ponticelli via delle industrie via delle industrie allora cosa aspetti vieni qui noi ti aspettiamo mentre loro parlano noi siamo alla fiera della casa ci godiamo un bel caffè intenso come piace a voi da come vedete signori benvenite un attimo benvenite un attimo 50 cialde il regalo signori caffè intensissimo vi aspettiamo fiera della casa